Ieri in Lombardia e Veneto è stata una lezione di democrazia per tutta Europa, abbiamo scelto la via legale, pacifica e costituzionale. La stessa opportunità la offriremo da nord a sud a chi ce lo chiederà. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa in via Bellerio.